Partiamo appunto dai primi 45 minuti, Roma che cerca di aprire la partita nel migliore dei modi, azione a percussione, siamo al primo minuto per Rotta però non riesce ad agganciare. Il Torino cerca di approfittare del risultato favorevole dell'andata, si fa vedere al 26esimo ma Di Michele colpisce centralmente. Al 29esimo ancora la Roma ma non è precisissimo il colpo di testa di Vucinic ed è il Torino che in chiusura di primo tempo si rende ancora pericoloso. Al 32esimo ancora la possibilità per Di Michele che anche con un rimpallo non è particolarmente fortunato, Doni riesce a argillare la minaccia. Grande esterno di Lecoba, siamo al 36esimo, ancora una possibilità per Di Michele, azione che prosegue, la palla barca completamente la linea, poi Di Michele cade per terra, l'azione continua ancora. Il pallone finirà in corner, brivido per la Roma che si scuote, 4 minuti dopo siamo sempre appunto nel primo tempo, va a mettere a referto quella che sarà la sua azione più pericolosa nei primi 45 minuti. E Manzini che però non riesce a superare Sereni. Attenzione perché nel secondo tempo la musica cambia. Al 11esimo abbiamo questa azione prolungata di Giuli che colpisce l'esterno della rete, a questo punto Spalletti decide di levare Vucinic e di fare entrare Totti. La musica della Roma cambia completamente, con il capitano in campo le polveri si accendono. Al 14esimo arriva il gol di Manzini che è abile ad approfittare dell'assist di Giuli ben servito da Perrotta. Passano altri due minuti e nello stesso capitano che va a segno con il gol numero 199, c'è l'assist di Giuli e Totti porta ancora più avanti la sua Roma. Siamo sul 2-0, Roma deve fare attenzione e poi c'è la possibilità di ulteriore allungo da parte della Roma. Questo è un gol particolarmente importante, mette praticamente quasi in cassaforte la qualificazione ma soprattutto è il gol numero 200 della straordinaria carriera di Francesco Totti. In chiusura arriva anche il gol del 4-0 con il piccolo capolavoro di Giuli che deve essere in prima col destra e poi col sinistra.